Riserva naturale dell'abbazia di Fiastra La riserva naturale abbadia di Fiastra, istituita nel 1984, comprende 1.825 ettari di terreni che circondano l'abbazia di Chiaravalle di Fiastra, che ancora mostrano tracce evidenti della lunga presenza e del lavoro dei monaci. Attualmente la riserva, che è gestita dalla Fondazione Giustiniani Bandini, ha come finalità fondamentali quelle di proteggere il territorio e le sue risorse, promuovere la ricerca scientifica e le attività di educazione ambientale, favorire lo sviluppo dell'attività agricola in accordo con le attività culturali e turistiche di più recente sviluppo, salvaguardare l'antica abbazia cistercense, il Palazzo Principesco e tutte le altre preziose testimonianze storico-architettoniche del passato. Il territorio della riserva naturale è compreso tra i comuni di Urbisaglia e Tolentino, nella fascia medio collinare della provincia di Macerata, tra 130 e 306 metri sul livello del mare, a cavallo tra la valle del fiume Chienti e quella del Fiastra, suo maggior affluente. Entrambi i comuni presentano una ricca storia, legata anche all'abbazia di Chiaravalle di Fiastra, e un importante patrimonio architettonico. La riserva, suddivisa in riserva naturale orientata, riserva antropologica e area di protezione, comprende ambienti diversi che rappresentano importanti testimonianze dell'evoluzione del territorio nel corso dei secoli. La selva, di circa 100 ettari, è il cuore dell'area ed è l'ultimo esempio, avente ancora una superficie considerevole, di una foresta molto estesa, che fino al 1700 copriva l'intera fascia collinare della provincia maceratese. Si tratta di un bosco a prevalenza di cerri, dove vivono numerosi animali selvatici, tra cui il capriolo. Il laghetto, le vene e i corsi d'acqua, entogge e fiastra, sono importanti e suggestive zone umide, ricche di vegetazione e fauna. I campi coltivati con relative case coloniche sono il frutto di un'attività agricola portata avanti nei secoli con amore e rispetto dei ritmi della natura. Nel territorio della riserva, oltre al cerro, sono presenti la roverella, la farnia, l'orniello, l'acero campestre. Sono state introdotte dall'uomo il leccio, il bosso e diversi tipi di conifere. Tra i mammiferi, oltre al capriolo, reintrodotto nel 1957, sono presenti la faina, il tasso, la donnola, l'istrice e la volpe. Fra gli uccelli lo sparviero, la civetta e l'allocco, il picchio verde, il picchio muratore, il rampichino, l'upupa e tanti altri passeri formi.